Alle ultime elezioni europee Forza Italia ha ottenuto uno straordinario risultato, è stato un grande successo che ha dimostrato quanto sia rassicurante la nostra forza politica che continua a difendere i valori di cui Berlusconi è stato il portabandiera negli ultimi 30 anni. Però per continuare ad ottenere questi risultati puntiamo a raggiungere il 20% alle prossime elezioni politiche, abbiamo bisogno del tuo aiuto. Un aiuto che non ti costa nulla. Ti chiediamo di prendere il tuo 730, ricordo che per le persone fisiche scade il 30 settembre e per le partite IVA il 15 ottobre. Nello spazio destinato al 2 per 1000 dell'IRPEF scrivi il codice F15 e firma con il tuo nome e il tuo cognome. Sarà naturalmente garantita per legge la privacy. Questa scelta non pregiudicherà le tue scelte a favore della ricerca, a favore della medicina, insomma tutto ciò che è previsto dalla legge che si può fare attraverso il 730. Dona il 2 per 1000 a Forza Italia. Scrivi F15 e metti la tua firma. Il tuo supporto è la nostra forza.